così è importante perché Cesena si è stato sono arrivati negli giocatori con l'ocultivo principale Arthur, la tua parata è più difficile l'intervento, se ci racconti almeno l'intervento dove la palla ti è un po' sfuggita e poi sei riuscito a riprendere e a chiudere bene questa parata è dopo il miglior errore non si conta ti ha fatto però piacere sentire i cori dei tifosi che ti hanno incitato proprio dopo quell'errore però hai bisogno di lavorare di più ma è un pareggio che vi piace oppure insomma potevate fare di più per vincerla questa è stata l'impressione per vincere questa cosa così come ho perso è importante grazie